C'è carenza di medici diffusa, c'è enorme carenza di camici bianchi da utilizzare per il servizio di guardia medica. Un servizio che avrebbe bisogno di 28 medici per contemplare le esigenze di Pesro, Vallefoglia e Gabicce Mare, ma che ora ne conta all'appello solo 5. Il risultato è che da questo mese di novembre i servizi di guardia medica di comuni di dimensioni considerevoli come Vallefoglia e Gabicce Mare verranno interamente accorpati nella struttura centrale di Pesro. Per quanto tempo dipenderà da quanto ne servirà a rimarginare la falla. Oggi si è tenuto un incontro in regione per affrontare l'argomento e lo stesso presidente provinciale dell'Ordine dei Medici, Paolo Maria Battistini, ha inviato una nota a tutti gli iscritti nella quale chiede la massima disponibilità a coprire i turni scoperti. Intanto si sta già creando un disagio per comuni come Vallefoglia e Gabicce che da mesi puntano ad aumentare i servizi sanitari di prossimità e invece ora devono confrontarsi con una scomoda sottrazione. Parlata dall'Aso questa problematicità che si percuote un po' su tutta la provincia, in particolar modo sul nostro distretto di Gabicce e Gradara e anche sul Montecchio. Il problema di fondo è la mancanza di medici. Da quello che ci dicono ci sono oggi disponibili cinque medici su una richiesta di 28. Quindi riuscire ad assicurare i turni di guardia medica con cinque soli medici diventa complesso. Quindi auspico che sicuramente possiamo essere sentiti noi sindaci che potremmo subire delle conseguenze da parte delle autorità sanitarie competenti. Quindi di conseguenza mi auguro per il mese di ottobre si è riuscito a tamponare in qualche modo perché è stato garantito il servizio di guardia medica in tutti i weekend e festivi con la presenza di guardia medica sul territorio di Gabicce. Oggi invece abbiamo la necessità in caso di necessità di chiamare la guardia medica di fare un numero di pesaro e poi la guardia medica arriverebbe su Gabicce o su Gradara. Quindi ci auguriamo che possa essere risolto. Però penso che lì c'è un problema più importante di carenza di medici che sono disponibili a fare il servizio di guardia medica. Voi per tante scelte a livello nazionale e regionale che si ripercuotano poi anche sul territorio. Se è stato chiesto la disponibilità anche ad altri medici sia di Fano e Urbino a poter coprire questi turni ci auspichiamo che il servizio comunque venga garantito. Poi se c'è un problema legato a questo periodo ben venga. Però sollecitiamo tutte le autorità sanitarie, regionali e nazionali affinché possano essere risolte queste problematiche.